Oh mio Dio, oh mio Dio, oh mio Dio, alleluia, alleluia, voi sapete cari amici, potete mettere il tavolo, quello che fa il diavolo, che attacca, non sul vostro spirito, attacca la vostra anima, si chiedetevi pure, la unzione continua a muoversi, la unzione stia cuorendo, e radio alla madre che, e all'ora. Giuliano, questa unzione sta usando luogo in questo momento, siete stati privati, di una vita vera e piena e tramite queste malattie ora in realtà verrà nella vostra vita pace, armonia e ordine armonia guardate la mano e dite armonia armonia oh, дорогhi, io ti ringrazio il benvenuto, cari amici i nostri carissimi il capo del senato la sua consorte, la mia famiglia benvenuti sapete che la cosa importante è l'armonia l'armonia con se stessi l'armonia con la natura l'armonia con Dio è vero o no? dite ancora gloria a Dio e arriverà il momento in cui arriveranno a un summit e vi racconteranno e sarà molto interessante ascoltare la loro storia l'armonia è molto importante senza armonia noi nascondiamo nascondiamo quel segreto che ci tiene imprigionati noi possiamo avere un bel aspetto essere vestiti molto bene può essere che la nostra moglie sia vestita benissimo un giorno ne abbiamo dato degli anelli molto costosi e voi andate per strada chiedi come stai? bene ma in realtà a casa c'è un inferno in realtà non va per nulla niente bene in realtà va tutto male ma noi tutti dobbiamo sempre far vedere che va sempre tutto bene perché è il diavolo che ci insegna a fare così di non aprirci nei confronti degli altri tormenta le nostre anime attacca e porta il buio nelle nostre anime e così facendo lo Spirito Santo non si può manifestare perché questo tormento questo torbido all'interno nella tua anima questa tortura non permette allo Spirito Santo di passare e manifestarsi e si intende o no? grazie a tutti 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 grazie a tutti